I sordienti, primo anno, ritardati bene con le posizioni del campo scolare, Maragna, Precic, Massolini, un paura brutto, scontro alla fine dell'ultimo salto sul rettilineo, qualche attreta ancora per terra ma stanno tutti bene, sembrava il gruppo intanto, in prima posizione, trovi a balla di derby, la civica per tenere gol della pescantina, seguito dalla compagno di squadra, per il team isloveno Precic, il 103 in questo momento Riccardo Magna e ancora il 279 Lorenzo Marzolini per il caravate Perugia.